Maiko Italia con i suoi marchi Elicente D9 è un'azienda leader nel settore della ventilazione impiantistica civile e industriale. In questo ambito negli ultimi tempi ha sviluppato notevoli nuovi progetti e prodotti e oggi abbiamo il piacere di andare alla scoperta di uno di questi nell'ambito appunto della ventilazione industriale. Venite con me! Ci troviamo all'interno dell'ufficio tecnico di progettazione di Maiko Italia Elicente D9 dove vengono pensati e sviluppati i nostri nuovi prodotti. E questo è il cuore pensante dell'azienda formato da validi tecnici al servizio anche del mercato. Oggi andremo a scoprire uno di questi nostri nuovi prodotti, la nostra nuova serie di mini jet fan. Siamo all'interno del reparto di produzione industriale dell'azienda dove viene assemblata e prodotta l'intera gamma dei nostri aspiratori industriali che così come d'altro canto i rimanenti prodotti di gamma civile risultano interamente made in Italy. Oggi parliamo del nostro nuovo prodotto il jet fan centrifugo compatto. Questo prodotto è stato studiato per poter essere installato in zone critiche con problemi di ingombro avendo la peculiarità di avere dimensioni molto ridotte e quindi ha la possibilità di poter essere installato in auto rimesse dove la criticità dell'ingombro è un problema fondamentale. Nello specifico questa serie di ventilatori compatti è equipaggiata con due motori con girante centrifuga palla rovescia ad alto rendimento in motorizzazione monofase con la possibilità di avere il motore sia in pressione tradizionale con gli AC sia con motori elettronici EC. La portata di questo ventilatore si attesta intorno ai 2.500 m3 ora con una spinta di circa 13 N. ovviamente questa macchina essendo un prodotto destinato per evacuazione di monossido di carbonio e altri inquinanti in auto rimesse deve essere installata a soffitto. Ripeto la peculiarità di questi prodotti alla massima compattezza quindi sono proprio indicati in quelle installazioni dove l'ingombro è un problema. Ringraziamo il signor Girelli che puntigliosamente ci ha illustrato questa nuova serie di prodotti che va a completamento della nostra gamma di estrattori industriali. Vi invitiamo a contattare il nostro servizio servizio di assistenza tecnica pre e post vendita che è a servizio del mercato anche per gli approfondimenti del caso. Grazie a tutti.